Si chiama Natale e magia di luci e canti, il programma di eventi natalizi che si svolgeranno nel comune di Colli al Metauro. Nei tre borghi di Montemaggiore, Serrungarina e Saltara questo fine settimana la faranno da padroni le strabilianti luminarie e l'ultrasound eventi che per l'occasione ha studiato degli effetti eccezionali per l'illuminazione di queste mura storiche. In collaborazione con le associazioni locali e le scuole e gli esercenti si inizia a Montemaggiore venerdì 8 dicembre alle ore 15 nella piazzetta della chiesa con canti natalizi, animazione e musica per le vie dei borghi con laboratori, spettacoli, lettura e gadget per tutti i bambini per proseguire poi alle ore 17 e 30 con la magia delle luci, accensione dell'albero e delle nuove straordinarie luminarie. Saranno aperte per l'occasione osterie e taverne con degustazione di prodotti locali e dolci stesso programma è previsto per sabato a Serrungarina dalle ore 15 e per domenica a Saltara 10 dicembre dove in più alle ore 18 nella ex chiesa del Gonfalone ci sarà un concerto del coro iubilate di San Lorenzo in campo. E' previsto invece per domenica 17 dicembre nella frazione di Calcinelli alle ore 8 un mercato straordinario ai mercatini natalizi lungo la via Flaminia con intrattenimento e musica a cura delle associazioni locali e confesercenti mentre alle ore 21 nella chiesa di Serrungarina si terrà un concerto dal titolo Armonie Giottesche